Io ho la passione per i camion, mi piace questo mestiere, mi piace anche il camion. Mi chiamo Manuela, sono della provincia di Bolzano e da cinque anni faccio la camionista. Un bel premio e un buon riconoscimento come donna. L'ho letto su internet per caso e mi sembrava molto interessante perché è un premio che viene dato alle donne che fanno dei mestieri non tipico donna come parrucchiera o comessa. E ho deciso di partecipare perché proprio mi interessava. Una settimana fa ho ricevuto la chiamata che sono stata selezionata come autista dell'anno e ero molto contenta. Mi piace questo mestiere, mi piace anche il camion, mi trovo bene. Il camion è automatico, alla fine fa tutto lui, cambia scala, poi sono tutti i vari assistenti che hai, tranne quello in retromarcia, lì devi andare a orecchio. Faccio viaggi lunghi, mi piace molto, vado dall'Italia, Germania e viceversa. Il mio ragazzo, vabbò, da quando lo conosco l'ho visto più spesso nei weekend, perché anche lui fa i viaggi lunghi e torna per venerdì, per sabato. Non l'ho conosciuto, lui faceva già l'autista, io ero impiegata in ufficio. Ancora non ho pensato di fare una famiglia, di avere figli, ancora non siamo arrivati a prendere questa decisione. Magari sì, più in futuro avrò qualche figlio. Sarà difficile per me lavorare, cambierò qualcosa io, a meno che sono più in zona, a casa. O cambio, di nuovo vado in ufficio. Non lo so ancora esattamente. Sì, poi ti chiedono sempre come mai hai scelto questo mestiere, come ti trovi. Un paio di volte però trovi anche di quelli che ti dicono, no, ma cosa sei andata a fare? Perché non fai qualcosa più leggero, non è per donna. Oncora appfigurato, adesso devi llegare a un domicilio. Grazie a tutti!